Si gioca in terra di Calabria contro un Castrovillari che annaspa nei bassi fondi della gradatoria con solo i tre punti. Quale migliore occasione per riassaporare il gusto della vittoria per il Gela dopo l'inominata sconfitta di domenica scorsa in casa con la capolista Ige Virtus, un KO che ha interrotto uno filotto di risultati utili consecutivi da quando è cominciato il campionato di Serie D. I biancazzurri sanno che la gara di domani è da vincere a tutti i costi, bisognerà solo non ripetere i due errori due di domenica al Presti che alla fine hanno determinato il risultato. La partita di domenica è stata una partita molto particolare dove il primo tempo siamo stati molto bravi a schiacciarli nella loro difesa però non siamo riusciti a concretizzare. Questo poi ci ha portato al 44esimo a subire un gol, ha fatto l'1-0 l'Igea e si è messa per loro molto bene la partita. Poi il secondo tempo abbiamo cercato di rimediare ma purtroppo nel calcio si sa, quando sprechi tante energie e poi ti trovi sotto 1-0 può succedere pure che prendi il secondo gol. Quindi è andata così. Domani dobbiamo fare di tutto per portare a casa i tre punti sia per noi ma soprattutto per la città. Il morale però non è sotto i tacchi nonostante la sconfitta perché il gelo in questo campionato può divertirsi. Il morale serve perché dopo un filotto di partite dove non perdevamo la sconfitta è arrivata in casa in maniera così in volso particolare quindi diciamo una vittoria domani ci porterebbe un po' a stare un po' più tranquilli e più sereni. Domani a Castrovillari non sarà presente l'Ucraino Kosovan squalificato per un turno dal giudice sportivo. Non ci sarà neanche Alma, sicuro l'impiego dal primo minuto di Bonanno. Chiunque sarà della gara dovrà dare il 100%. L'obiettivo nostro è quello prima di tutto di arrivare alla salvezza. Poi quello che viene è tutto divertimento che può portare entusiasmo, può portare sempre cose positive. Però diciamo che il primo obiettivo è la salvezza. Arrivando alla salvezza poi vediamo gli altri obiettivi quali sono. Ma vi fa sudare tanto il tecnico inventino? Il mister ci fa allenare bene, ci fa stare sereni, ci fa stare tranquilli e noi facciamo di tutto per stare a quello che dice il mister e portare a casa i risultati. Anche domani a Castrovilla risal presente una folta delegazione di tifosi biancazzurri.